ciao ragazzi bentornati qua sul canale oggi spazio dei pronostici anche se non ci sono i pronostici però andiamo a vedere i pronostici avevo fatto io nelle coppe e champions league europa league ragazzi era un piccolo video non dura tantissimo ragazzi spero che qualcuno di voi ha preso spunto che ha vinto ragazzi spero che avete vinto qualcuno di voi iniziamo allora io in champions ho messo juventus lione multigol 24 abbiamo presa perché fino a 1 per la giusta fuori vabbè comunque abbiamo presa poi il site corea madrid ho messo gol l'abbiamo presa barcellona napoli gol e l'abbiamo presa atalanta ho messo il gol l'abbiamo presa proprio al novantesimo mi dispiace ancora per l'atalanta perché meritava l'atalanta per passare il turno secondo me però purtroppo è nata così mi dispiace però l'abbiamo presa poi andiamo europa league lo chat donets ho messo over e l'abbiamo presa il copenhagen avevo messo over e l'abbiamo presa inter ho messo ande tre e mezzo infatti l'abbiamo presa poi invece il volvere entro l'ho messo 1 x per colpi l'ho detto boh non si sa mai ci copriamo con 1 x ho messo over purtroppo questa l'abbiamo sbagliata perché finita 1 a 0 sulla carta poteva esserci invece seviglia rom ha messo over e anche quello abbiamo preso allora su 9 partite ne abbiamo prese 8 e direi che non è male ragazzi perché se avete preso spunto qualcuno ha vinto anche se magari le quote non era altissimo perché la quota mi sembra il totale di nove partite la quota era di 21.43 mi sembra però se qualcuno ha preso spunto ha preso magari a pagina solo due partite o una partita se si vuole a divertirsi ha vinto qualcosina a me mi fa piacere detto questo ragazzi i nuovi pronostici ci saranno appena possibile spero che mi seguite ragazzi ha sempre qua nel canale perché comunque ho un po di fortuna o comunque un po di bravura se si può dire così io non sono capace su questo campo io lo faccio per divertimento poi se mi va bene bene ragazzi e c'è gente che fa questo lavoro meglio di me sicuramente e comunque l'abbiamo presa ragazzi spero che qualcuno di voi ha vinto e ci vediamo sempre qua nel canale iscrivetevi ragazzi mi raccomando perché non è solo pronostici il canale ma anche il gameplay di videogiochi e tutto altro anche tutto il resto che può venire ragazzi io faccio video ragazzi allora non è solo gameplay e commentate ragazzi che noi parliamo insieme ecco e fate anche tante condivisioni se potete ragazzi ci vediamo nel prossimo video sempre qua nel canale un abbraccio a tutti alla prossima ciao ragazzi